l'attenzione dei notici i togli allora questo non è un video ve lo ricordo è una piccola scena che caricherò comunque allora raga questo non è un video è una piccola scena che caricherò comunque per farvi vedere che sto costruendo io da grande stalla per le pecore e poi vi ho detto nel video che ho lavorato molto off camera allora non fate caso che parlano come un down ma perché ho un'altra nella lingua qui come potete vedere raga sono andato molto avanti ho finito tutto ora le pecore le dovrò fare uscire di qui perché qui c'è spazio e andrò fuori a fargli la bella stalla dove è il materiale eccolo qui prendo un po' di roba e poi finirò le cose ciao era un mini figlio